Allora, una domanda stessa per tutti e due, quanto è stato difficile mantenere la spontaneità di quattro personaggi all'interno di un film, che è una cosa completamente diversa? Io in quello mi sento fortunatissima perché intorno a me c'erano tutte persone, da Giovanni a Fabrizio Donvito, che mi dicevano, lo sentivo che era proprio una cosa che hanno detto dobbiamo mantenere questa spontaneità e questo divertimento sul set perché se uno si inibisce a fare delle cose, specialmente quando si tratta di fare dei personaggi un po' eccessivi, un po' esagerati, molto spesso proponi delle cose stupide, brutte, che non funzionano, però è proprio quel tipo di atmosfera di mettere in mezzo tutto e vedere cosa funziona che ha protetto il film dal prenderlo troppo, non seriamente, ma di perdere quella spontaneità lì che comunque in qualche modo non è scontata, bisogna creargli intorno qualcosa per mantenerla. Quindi mi sento fortunata per questo perché mi sono sempre sentita davvero spontanea grazie a come me l'hanno un po' messa intorno. Giovanni è stato difficile? Io sono sempre stato dell'idea che questo mestiere va fatto con grande felicità perché altrimenti io non sono l'artista leopardiano, ricurvo sul banchetto, sono epicureo, mi piace godere quindi tutti quelli che vengano a fare i miei film, sia da produttore che da regista cerco di metterli nella migliore condizione possibile per fargli capire la fortuna che abbiamo nel fare questo mestiere e quindi la sera si va fuori a cena, ci si diverte, gli orari non devono essere orari tremendi, noi facciamo degli orari sul set, facciamo otto ore di continuato partendo alle undici e finendo alle sette di sera, quindi c'è il tempo di andare a cena fuori di svegliarti un po' più tardi, di fare una vita bella, bella perché questo mestiere è bello e quindi devi essere contento di farlo e questo rende l'atmosfera non sempre super divertente ma felice che è un'altra cosa molto importante per far venire bene le cose assolutamente Pilar quattro volte, quattro Pilar, però in realtà c'è un cast intorno che funziona alla perfezione quanto è stato importante avere tutti e due per la scelta perché come dicevo non c'è una faccia sbagliata nel film praticamente Devo dire che è stato importantissimo, specialmente quando dei personaggi sono così esagerati noi siamo andati anche un po' in crisi perché ci siamo detti come devono guardarle gli altri perché è chiaro che a volte dicono delle cose un po' assurde, qual è lo sguardo che devono posare su questi personaggi? In questo secondo me Barbara Bobulova è stata eccezionale, per me è stata una vera lezione perché grazie al modo in cui lei guarda questi personaggi di punto in bianco il film e questi personaggi hanno preso una profondità e una grazia e una tenerezza che va oltre alla presa in giro e al divertimento e quindi lei secondo me in questa domanda che mi fai è stata esemplare perché è proprio gli occhi del fuori rispetto a questi mondi di queste ragazze lei gli ha dato veramente una specificità elegante, vera, un po' stupita, un po' divertita però sempre con tenerezza beh diciamo che te non lo devi dire di te stessa però lo dico io, l'hai diretta bene perché gli attori bravi devono avere un bravo regista altrimenti non riescano a dare il massimo di sé quindi sia lei che Diane Flery, Giovanni Ansaldo e Propizio sono stati diretti bene e quindi hai fatto bene il tuo mestiere per chiudere brevemente una riflessione romantica che può passare come commedia leggera però in realtà dentro delle mele avvelenate siete d'accordo? beh sì, a me i film comici come l'amaro là un po' che ti fa fare un po' così, che ti fa stringere la pancia mi sono sempre piaciuta tantissimo che poi in realtà ci sarà un motivo se le persone dicono bello, fa ridere ma fa anche riflettere che è una cosa che adesso si sta ironizzando tanto su questa cosa che tutti dicono e fa ridere perché lo dicono quando una cosa ti è piaciuta però ha un grande significato che la risata è riflessiva la risata è personale, è profonda e quindi in realtà sì, ti dà dei punti di amarezza il film li abbiamo voluti mettere ma non abbiamo sono venuti un po' naturali per dargli profondità non perché volevamo metterci in amarezza ma perché volevamo essere onesti con questi personaggi e raccontarli fino in fondo, umane l'importante è che non dicano fa anche riflettere ma non fa ridere per niente no, esatto ah perché l'inverso giustamente non funziona no, non ci ho pensato all'inverso effettivamente grazie mille grazie a te grazie a te